Vi diamo il benvenuto in questo piccolo video tutorial che abbiamo pensato di realizzare per fornirvi un supporto nell'utilizzo della piattaforma Eligo, piattaforma adottata dal VII Congresso di Arcitorino per gestire le operazioni di voto che si svolgeranno nella sessione plenaria di sabato mattina 10 aprile. Nel momento in cui andremo ad inserire nel sistema l'elenco dei votanti, gli eventi diritto riceveranno sulla propria email una prima mail automatica da parte del sistema che contiene le credenziali di accesso alla piattaforma. La mail si presenterà in questo modo, nell'oggetto sarà presente il termine credenziali e all'interno troverete username, password e pulsante di accesso alla propria sezione riservata. Il sistema automaticamente invierà delle mail successive in quanto è concepito per inviare una mail per ogni scheda di voto che verrà preparata e predisposta. Queste mail successive non conterranno più le credenziali, infatti faranno sempre riferimento alla mail ricevuta in precedenza. Sarà presente in ogni caso il pulsante di accesso. Una cosa importante è il fatto che nel momento in cui voi andrete a fare l'accesso all'area riservata, lì troverete tutte le schede di voto disponibili. Quindi non è così importante tenere poi traccia delle mail successive alla prima, in quanto l'importante sarà appunto avere le credenziali per accedere all'area riservata. A questo punto possiamo procedere con l'accesso all'area riservata. Facciamo clic sul pulsante, andiamo ad inserire le credenziali nel riquadro dedicato. Dopo aver fatto clic su accedi, dobbiamo andare ad inserire l'SMS PIN che avremmo ricevuto sul numero di telefono mobile indicato all'atto della delega. vado a recuperarlo in tempo reale, 3, 2, 9, 6, prosegui. A questo punto finalmente mi trovo all'interno della piattaforma nella mia area di voto, dove come vi avevo anticipato trovo effettivamente tutte le schede che avrò a disposizione e quindi in questo caso ce ne sono tre per il momento effettivo del voto ci saranno quelle appunto disponibili con ovviamente un'indicazione nel titolo ed indicazioni operative tipo ad esempio la possibilità di esprimere al massimo una preferenza. Ora io procedo con l'operazione di voto così andiamo fino alla conclusione diciamo della procedura. Ad esempio per la votazione 1 vado ad esprimere un'opzione, un parere favorevole, quindi seleziono la scheda, seleziono la mia opzione di voto, faccio clic su conferma preferenze e poi successivamente su registra preferenze. Posso decidere in questo momento se ricevere via mail la conferma del mio voto oppure no. Io scelgo di riceverlo e clicco su continua. Quindi la prima scheda a questo punto è stata risolta, è stata conclusa, la votazione è stata conclusa. Il sistema mi propone in successione le varie schede, quindi anche qui posso andare a esprimere il mio voto, in questo caso sarà magari contrario, conferma preferenze, stessa procedura di prima, regista preferenze e scelgo di ricevere sulla mia mail la conferma dell'avvenuta votazione. Concludo la procedura anche per la terza scheda, conferma preferenze, registro preferenze, invia la conferma. Faccio clic su continua e la procedura sostanzialmente è conclusa. Grazie per aver votato la votazione è andata a buon video. Infine non ci sono più votazioni attive, significa che ho esaurito le schede che avevo disponibili. A questo punto torno sulla mia mail per verificare che siano correttamente arrivate le notifiche di avvenuta votazione, le email che confermano che l'operazione ha avuto un buon esito. E questo è tutto. Vi ringraziamo per aver seguito questo tutorial e restiamo ovviamente a disposizione per qualsiasi dubbio o domanda nell'utilizzo. Buon congresso a tutti!